Appuntamento importante oggi a Pesaro, Innovation Roadshow Pesaro, un convegno dedicato alla tecnologia emergente e in particolare indirizzata a attività culturali e creative. La CCSquare è importante perché è una delle 13 case delle tecnologie emergenti che ci sono in tutta Italia, che sono state finanziate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy proprio per essere dei prototipi, dei precursori della sperimentazione in un contesto urbano e quindi sul campo dell'utilizzo delle tecnologie emergenti, delle nuove tecnologie. Quindi Pesaro ha la grande opportunità di sperimentare per prima l'innovazione che può essere abilitata dalle tecnologie e di essere in rete con tutte le altre 12 città che stanno facendo altrettanto su altri temi. Da noi i temi sono quelli di Pesaro per cui sono la cultura, il turismo e l'engagement, proprio la partecipazione attiva della popolazione. Quindi la Casa delle Tecnologie Emergenti non è qualcosa che sta da una parte dove dei ricercatori fanno le loro cose, ma è proprio una grande opportunità di trasferimento tecnologico, innovazione aperta e sperimentazione urbana. Senza l'intervento dei cittadini e dei visitatori la sperimentazione urbana non si fa. Ci aspettiamo che anche la città possa recepire il messaggio che vogliamo dare e spiegare cosa sta facendo la Casa delle Tecnologie che dopo un anno di lavoro già può presentare diversi risultati perché abbiamo 15 progetti di ricerca che sono in corso, abbiamo fatto diversi momenti di trasferimento tecnologico, abbiamo collaborato a sviluppare nuove modalità di fruizione degli eventi culturali che sono i più importanti in città come quella della Fondazione Nuovo Cinema e il ROF digitale, per cui grazie alle attività di sviluppo che sono state fatte dentro la Casa, sia il ROF che i Festival del Cinema hanno potuto fornire nuove modalità di fruizione digitale al pubblico. Stiamo incubando 20 start-up che abbiamo selezionato con un bando di open innovation, sempre grazie all'attività della Casa, quindi possiamo dire che anche la giornata di oggi può essere un po' la sintesi di quello che sta succedendo, diciamo grazie alla Casa. Come un campo abbiamo coltivato e oggi raccogliamo i frutti dove ci sarà appunto il confronto con tutte le case delle tecnologie italiane e siamo molto scontenti e soddisfatti che anche a partecipare come start-up siamo arrivati anche a sopra 70 imprese che appunto si vogliono buttare nel mondo dell'innovazione tecnologica. Ieri c'è stato un laboratorio dove abbiamo fatto vedere a tutte le case delle tecnologie italiane cosa stiamo facendo e a che cosa stanno lavorando. Però adesso è fondamentale la formazione, ci siamo resi conti e vediamo anche dai dati italiani che c'è un gap che dobbiamo assolutamente colmare che è quello tra la formazione dei ragazzi per entrare nel mondo dell'industria e del nuovo lavoro digitale perché ci siamo resi conto che le industrie hanno bisogno di competenze. Io credo che noi come italiani e Pesero è oggi la capitale del nostro patrimonio culturale abbiamo l'onere di portare questo grande patrimonio di conoscenza, di sapere, di esperienza nella modernità attraverso i linguaggi che sono propri non solo delle nuove generazioni ma in fondo anche nostri, linguaggi che aumentino il convolgimento che si abbinino a un'attività che ci piaccia o no facciamo continuamente tutti quanti che è quella di stare online per cui ben vengono tutte le tecnologie come la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale, la blockchain e tante altre di cui ci occuperemo oggi per non banalizzare i contenuti ma per potenziare, per dare nuove prospettive all'incontro tra noi e il patrimonio musicale, archeologico, museale straordinario che abbiamo in Italia.